Ciao Antonio Wey ciao Giuseppe Lo sai che l'altro giorno la maestra Quanta è bella Sharon Devo assolutamente fare colpo su di lei Ci sono Giuseppe Molto pazzo vedere io come si fa Giuseppe Hai visto come si fa? Ma come hai fatto? E' facile L'ultima espressione dei Pokémon Scarlatto e Violetto Paradosso temporale E' irresistibile A tutti piacciono i Pokémon Pure a Sharon